Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4,16. Dio ascolta la tua preghiera. Il Signore ascolta le preghiere che si elevano a Lui e risponde a quanti lo invocano. Dio ascolta la tua voce. La consapevolezza che il Signore è attento alle nostre suppliche dovrebbe vivere in noi mentre parliamo con Lui. Perciò dobbiamo imparare a gioire e ringraziare Dio nel momento in cui ci accostiamo al meraviglioso trono della Sua grazia, perché Egli è lì per noi. Il Signore ha detto, invocami e io ti risponderò. Dio promette di rispondere a coloro che chiedono, cercano e bussano. La fede gioisce nella promessa perché è certa del suo adempimento. Quando rivolgi le tue preghiere al Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, devi credere di aver già ottenuto risposta. Accostati con fede al Suo trono e presenta le tue richieste con ringraziamenti. La lode a Dio e la gratitudine nei Suoi confronti ti permetteranno di mantenere un atteggiamento positivo. Ricorda che il Signore è sempre pronto a risponderti.